ciao ragazze ciao ragazzi benvenuti o bentornati sul mio canale in questo nuovo video vi volevo fare video all use dei prodotti che mi sono arrivati e scusate per l'aspetto ma come il tempo che qua piove non voglio fare niente sono meteoropatica e voi comunque non siamo qui per parlare di tempo ma vi volevo far vedere cosa mi è arrivato intanto partirei da questa chicca in edizione limitata pochettina o bag con all'interno burro corpo argan e cedro e bagnoschiuma già dolce argan e cedro veramente ragazzi questa profumazione è fantastica e poi è carino perché vi rimane la pochettina che potete riusare per qualche altro modo se si chiude ok poi ho preso una crema viso solare 30 resistente all'acqua questa qui è proprio adatta per il viso così con i conosciuti piano piano a prendermi i prodotti così piano piano comincio a riprendermi le creme solari per l'anno prossimo poi ho preso un questo qua veramente molto buono anche per chi soffri di scistite è il top come il regalo ho preso il roccio schiuma malva il deo rolon alla malva e la borsa questo qua veramente molto molto bella e insieme come regalo anche il latte corpo alla malva e poi gli ultimi due prodotti che ho preso sono questi qua e diffusione all'essenza con i bastoncini anche questi qua in edizione limitata questo qua armoni air living con limone lemgrass aranzo e menta con i bastoncini veramente veramente molto molto belli e molto buoni e niente ragazzi questo è tutto spero che anche prodotti anche se pochini vi siano piaciuti i miei video vi piacciono e ci vediamo presto